Stefano Carbone 2021 un anno difficile per lo sport Ligure ma un anno straordinario per l'Unione Sportiva Locatelli Genova con la vittoria del campionato under 16 con il raggiungimento della fase finale nazionale under 18 con una 2 soddisfacente insomma qualcosa di straordinario avete così festeggiato il vostro ventesimo compleanno che in realtà arrivava nel 2020 ma che vi ha regalato in questo 2021 davvero tanti motivi di gioia sì assolutamente confermo quello che hai detto ci aggiungo anche anche la squadra under 20 ha fatto la finale la semifinale nazionale scusa e la 14 ha vinto per il terzo anno di fila il campionato regionale è stato un anno assolutamente straordinario culminato chiaramente con la vittoria dello Scudetto under 16 di un gruppo che comunque anche quest'anno si dovrà confermare in a2 dato che la formazione che presenteremo ai nastri di partenza prevede otto giocatrici di quella squadra una sola senior e due ragazze che sono passate quest'anno in under 20 ma hanno fatto parte della squadra che ha fatto la final for Scudetto e due nuovi acquisti una Chiara Padula della Promogest Cagliari e una Ludovica Pizzimbone figlia d'arte perché suo papà era giocatore da Mameli ha giocato anche in a1 e viene addirittura dal Sudafrica dal secondo portiere si dovrebbe partire il condizionale ed obbligo il prossimo 5 febbraio con la 2 con quali obiettivi ma l'obiettivo mio personale sarebbe di finire quantomeno nella parte sinistra della classifica ora questo in un girone da dieci squadre logicamente se dovessero cambiare i gironi cambierà un po tutto ma non cambia il fatto che dobbiamo fare sicuramente un campionato di più alto livello rispetto allo scorso anno dove con alti e bassi siamo arrivati a giocarci la salvezza comunque stravinta poi in due partite secche vinte di 8 e 10 gol ai play out quest'anno contiamo di non passare play out anzi avvicinarci alla zona play off se non coglierla proprio a distanza di qualche mese non possono ritornare a quel fantastico successo under 16 che cosa rimane vivo nella tua mente ma rimane rimangono le facce del ragazzo a fine partita a quei momenti che avresti voluto fissare fermare un po come ha detto paolo rossi di quando vinsero il mondiale che ogni secondo avrebbe voluto bloccare il tempo quei momenti lì poi ripercorri tutto tutto l'anno a ritroso è stata una vera proprio cavalcata cioè però rimangono tante bellissime fotografie però tutto questo sarà servito se queste ragazze poi ci porteranno in breve tempo in a uno che poi l'obiettivo vero e principale della società nel medio periodo quanto è importante lavorare come fai tu con il vivaio prendendo le ragazze già giovanissime farle crescere farle vivere le esperienze nelle giovanili e poi portare a confrontarsi poi con le migliori per noi non è soltanto una scelta è proprio un obbligo perché al momento non abbiamo ancora avuto le possibilità di crescere come società al punto da sostenere una campagna acquisti seria a prendere giocattici straniere eccetera però è anche una scelta così di filosofia perché il vivaio per noi è una cosa fondamentale anzi se abbiamo un problema è quello di reclutare noi abbiamo bisogno di reclutare ragazze la promozione femminile a Genova nella città di Genova non è ancora diffusa come dovrebbe tanto che restiamo l'unico club da nervi a voltri ma a parte questo abbiamo difficoltà a reclutare giovanissime quindi il vivaio è sicuramente e resterà sicuramente l'obiettivo principale della società E allora per chiudere fallo un appello a tutti i colori a tutte quelle famiglie che ancora non hanno trovato uno sport per le loro figlie perché la pallanuote dove possono venire a provare con la Locatelli assolutamente anzi posso prendermi una una briga io qua davanti alle camere di Steleno Sport e noi abbiamo grazie a Municipio 8 Medio Levante che ci ha sostenuto in un progetto abbiamo avuto tre mesi di corso gratuito da ottobre a dicembre per un gruppo di ragazzine che hanno iniziato io direi che se qualcuno tramite Steleno Sport o citando questa trasmissione ci scrive alla nostra email locatelli.genova.gmail.com o ci contatta tramite i social possiamo estendere anche da gennaio a marzo per le nuove iscritte questa promozione di tre mesi completamente gratuiti per per reclutare giovani perché è veramente molto molto importante uno sport bellissimo venite vi divertirete siete nell'ambiente giusto attenzione alle giovani ma anche ai giovani la Locatelli lavora anche per la crescita di un vivaio maschile dire che questo progetto è iniziato da cinque anni lo stiamo portando avanti abbastanza con buoni risultati devo dire ogni anno diciamo riusciamo a espanderci a trovare nuove ragazze nuove leve quindi diciamo che di pari passo come la femminile cerchiamo di crescere ogni anno sempre di più ora abbiamo tre categorie che sono l'under 14 l'under 16 e l'under 18 diciamo che il nostro nuovo step per il prossimo anno visto che non siamo ancora a livelli di numeri tanti in under 20 sarà l'obiettivo prossimo l'under 20 però diciamo che in generale l'obiettivo poi massimo è cercare di portare più ragazzi possibili alla nostra prima squadra che ora merita nel campionato di serie B che devo dire sta facendo questi ultimi anni anche il loro dei ottimi risultati come per due anni consecutivi hanno fatto i playoff per cercare di raggiungere la 2 quindi comunque un ottimo risultato visto che comunque la maschile vuol dire che ha un'altra competitività per via di tante squadre che ci sono se parliamo solo per dire della riguria almeno 24 25 squadre ci sono quindi devo dire che se mi paragona quelle squadre devo dire pur essendo una neo squadra siamo comunque nelle prime 10 assolutamente quindi devo dire che risultati piano piano stanno arrivando quindi però diciamo l'obiettivo poi il principale è che più ragazzi possibili come nella femminile riescano ad arrivare in prima squadra ma si manca anche la collaborazione con Stefano Carbone in particolare per le Under 14 esatto esatto assolutamente infatti non a caso che il gruppo diciamo della Locatelli Under 14 è un gruppo proprio assieme che quindi sia 14 maschili che femminili si allenano assieme per poi piano piano raggiungere cercare di crescere e per migliorare per diventare delle gioste bravi e forti diciamo